Come ti senti? Si senti bene, bisogna guardare i piedi su terra, ci sono solo 10 match. Bisogna apprezzare il momento, ma bisogna restare serio e giocare i match l'un dopo l'altro, guardando la stessa stessa. Come ti senti? Chiaramente ricevo anche io tutte le mattine la rassegna stampa leggo dei complimenti che fanno sicuramente piacere ma ripeto, sette settimane fa eravamo sotto attacco adesso non è che abbiamo risolto tutto adesso ci sono sicuramente buone parole ma ci sono ancora delle critiche che in parte mi trovano anche concorde perché da parte mia sono e siamo come gruppo di lavoro uno staff molto critico con noi stessi abbiamo momenti molto caldi quando ci confrontiamo tra di noi perché ovviamente cerchiamo di migliorare sempre, di migliorarci di aiutare i nostri calciatori a fare un passettino in avanti quello che abbiamo raccolto è un qualcosa che ci deve rendere orgogliosi che ci rende sicuramente felici perché ripeto noi penso che siamo veramente consapevoli che ogni punto che ci siamo guadagnati ce lo siamo guadagnati con tanto lavoro e con tanto e con tanto sacrificio dall'altra parte c'è ancora tanto da migliorare rispetto alle belle parole le ascolto ma ripeto mi piace poi metterle da parte e non pensarci e rispetto invece ad alcune critiche che ovviamente giustamente arrivano rispetto ad alcune situazioni dal mio punto di vista e dobbiamo fare un'analisi un pochino più ampia perché in primis perché giochiamo contro avversari che sono forti che sono preparati che preparano le partite allo stesso modo di come noi le prepariamo e credo che quello che noi stiamo facendo in questo momento sia un qualcosa di bello e importante perché alla fine tutte le partite hanno una storia a sé e credo che una delle cose più importanti se posso fare un esempio per cercare di far capire fare calcio ed essere una squadra secondo me è come guardare un guardaroba e devi essere in grado di avere tutti i tipi di abbigliamento possibile lì dentro e deve avere lo smoking, deve avere un abito elegante, un jeans per tutte le occasioni una tuta da ginnastica e un abito da lavoro e noi in queste dieci partite le abbiamo usati tutti e spesso ne abbiamo usati più di uno dentro la stessa partita e ripeto da parte mia non c'è assolutamente vergogna anzi c'è tanto orgoglio nel fatto che in alcune partite abbiamo dovuto usare più a lungo del previsto gli abiti da lavoro e secondo me l'abbiamo fatto con orgoglio e con efficacia e ripeto quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi è merito del lavoro di tutti i ragazzi e di tutte le persone che lavorano nel club In il foot è molto importante la concurrenza è molto importante è obbligatoare se non non possiamo ancora più a se passare è molto importante e io penso che con Romain è una concurrenza che è molto saine il mi apporte molto e mi dà molto consigli perché ha più di esperienza io ho anche ascoltato ciò che mi dà ciò che mi dà ciò che mi dà ciò che mi dà